Musica Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video Questa volta si tratta di un video abbastanza particolare Questo video è dedicato alla maggior parte degli amanti di The Sims 4, The Sims 3, The Sims 2, The Sims Ovvero tutto il mondo di The Sims In questo video vi volevo annunciare che come potete già ben leggere da qui Ok, qui ci troviamo sulla mia pagina ufficiale di Facebook Per chi non ha messo il mi piace, che metta mi piace per seguire tutte le informazioni di Drylton King Link in descrizione E una bella novità per tutti quanti voi Come potete ben leggere in esclusiva per l'Italia Per l'Italia scusatemi O spediamo nel forum ufficiale ovvero Link Come potete ben leggere qui The Sims Forums Sul forum ufficiale di The Sims 4 Lo studio member di Maxis, SimGuru E oggi che è una persona davvero molto importante Per quello che è stato lo sviluppo di The Sims 4 E noi tutti quanti potremmo fargli tutte le domande che vogliamo su The Sims 4 Direttamente sul forum e anche in lingua italiana Quindi impariamo a scrivere bene l'italiano Scriviamo le domande corrette in italiano Le spediamo e lui ci risponderà Questo evento inizierà Quindi possiamo partecipare a questo evento Esclusivo naturalmente Perché non capiterà mai più nella storia del mondo Non è vero Potrà capitare però è una cosa abbastanza speciale Mercoledì 3 dicembre alle ore 6 del pomeriggio Adesso è il primo Volevo dirvi la prima questa cosa però Me ne ero dimenticato Poi ho avuto problemi di connessione Quindi mi ero dimenticato Ok passiamo Questo è sulla pagina ufficiale Sul forum di The Sims E come potete vedere Eccola qui la notizia Hai da una domanda? Beh facciamo una domanda al nostro Sim Ok chiedi al guru E come potete vedere in esclusiva In Italia O spediamo Il nostro bravo signore Che risponderà a tutte le domande che volete Quindi ragazzi Cercate di partecipare Soprattutto per chi veramente ama tantissimo The Sims E potrà fare tutte le domande che vuole Per questo è tutto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Arrivederci Grazie a tutti